Avete capito qualcosa? In grosso modo, sì. E tutto questo per il prodotto interno lordo. Dolce cuore di Gesù, fa che rimani sempre più. Dolce cuore di Maria, sia la solvezza dell'anima mia. Giurano e spergiurano, mio caro presidente, e firmano sul sangue tossico della Repubblica nascente. Io vi dissocio perché sono un credente che inizia la preghiera della misericordiosa gente che Cristo ha visto nascere nella mafia del presente. Ce lo spiega San Francesco, che è crepato sotto il tempo. Il terremoto è arrivato e nessuno ha pagato. Il nostro ambito, il 3%, è nato uno scopio. Erano precari. Erano giovani e forti. Erano trecento. Erano numeri storti. Poi, ben andato un mattino a lavorare, quando ho visto un russiano in mezzo al mare. Era uno scavista che andava a vapore. Nessuna locomotiva spuntava il tricolore. Lì, ad Aschwitz, il forno, ero stato un biscotto di un Cristo ridotto in pagotto. Per il per cento. Per cento. Erano trecento. Erano precari e forti. E sono morti. Che donna profonda. Bruvolona e tonda. Sarò io, ma c'è il seguito. Divente palizzate. Per l'appunto, lo sedere. Da un trucco rotondo. E' un bel trucco che ammorda il mondo. Il settino a miniatina. E lo sguardo incendiario. Unico come il razzo lapidario. Unico come il giochere. Unico come il tuo sedere. Unico. E' unico ideologico. Ma se tu qualche pezzo sfidogico. Suzzettino a miniatina. E' un fatto totale. E' un giusto. E' un tuo. Ma che spettatore. L'amore è un trucco che l'umano ti ha. Almeno questa. Una pulso elettrica. Unico che ci trasforma. Intanto trasforma con il palo di otorano. In questo religio gioco. Sarai religio. Perché come un insetto. A tutti dà il piano. E' un po' di scopo. Grazie.